Momento catartico, andiamo a beccare il leone del Misanino Andrea Rocco qua nella sua pista dove tante volte ha vinto. Andrea sappiamo che questo non è proprio il momento migliore, fino adesso non siamo stati fortunatissimi, la notte ha sempre portato consiglio a PFV e Infinity, pronta una strategia di recupero o dobbiamo solo sperare che qualcuno con la bandiera svizzera cominci a perdere qualcosina, perché adesso hanno cominciato a perdere qualcosina. Infatti adesso speriamo su quello, sta girando un po' il discorso dei kart e stiamo approfittando di questo suo calo per cercare di recuperare quello che abbiamo perso fino adesso, ce la mettiamo tutto, dipende dal kart anche in questo caso, dobbiamo marcare e dobbiamo battere adesso, tutta la notte. A costo, allora strategia di PFV, le tenebre devono rimettere a posto le cose, poi domani mattina andremo a rivedere la telemetria, se la volete seguire tutta la notte, Andrea a dormire non ci va sicuro, gliel'avranno proposto ma lui non ci va. Andrea grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie a voi.